Anche stamattina Matteo, Giulia, Giamila e Marco aspettano l'autobus che li porterà a scuola. Prima dell'emergenza sanitaria gli unici problemi erano questi. Adesso, per essere in sicurezza, la capacità è stata dimezzata e per DPCM possono salire a bordo la metà delle persone. Ma è importante mantenere un comportamento in linea con le norme di sicurezza, quindi salire ben distanziati, igienizzare le mani, rispettare la capienza massima e mantenere la giusta distanza senza togliersi la mascherina, nemmeno fra amici, giusto Francesca? Adesso il viaggio verso la scuola è in piena sicurezza. I ragazzi a bordo rispettano le norme del DPCM sull'emergenza Covid. Memorizzato tutto ragazzi? Perché adesso vi interrogo. Tranquilli, è molto semplice. L'importante è rispettare la capienza massima, oltre ovviamente alle norme di uso quotidiano di questa emergenza. Se non hai capito perché stavi facendo come lui, puoi riguardare tutto da capo e scoprire poche regole per non fermarci.